benvenuti in questo nuovo pronostico sotto tutte le forme io sono andrea qui con me c'è anche giuseppe dei quattro giorni vado e diciamo non è la finale di se si vede io ento spazio barcelona ok la squadra posto io sarò la juve e io e barcelona no 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 ho avuto un'occasione che era era pazzesca attenzuale il difensore cinesi di piedi in effetti nella in effetti il nuovo incontro saliti nella realtà che lini potrebbe entrare in quel modo si anche lei si fa anche un sospedale gentile e se quando parte e in seguito come giusto che sia non è non è non è ora non è allora proprio 8 il tiro più brutto che poteva fare non c'entrava niente no da messi la la forse la 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 a ora andrei in effetti ha avuto più che si è io il primo dio ci sono rimasto un po' un po' fatte devo dire si è messi in un angolino che poi for che mi sei se uscito frente a un po' il pallone tra il difensore messiere ha fatto molto simile a noia nella semifinale e ora è finito, mi fate neanche ripartire proprio giusto così finisce qui il primo tempo andiamo, eccoci qui andiamo con l'inizio del secondo tempo ripartiamo subito con la juventus partiziali della bandierina per la testa di pietro traverso mamma mia buttate che gli è successo che cosa è successo ww ma io quando parte morata che succedo tantissimo quest'anno nooo ho perso un'occasione mentre oggi suare se c'è veri di risolto mentre oggi suare se c'è veri di risolto c'è veri di risolto c'è veri di risolto 0 a 2 penso sia abbastanza come risultato c'è bisogno di infierire scusa buffon la voleva prendere però e comunque una squadra per onore per onore l'avversario deve per forza di giocare fino all'ultimo minuti da italiani ci auguriamo che vinca la juve però secondo me andrea d'entra il tiro con pirlo in effetti con pirlo c'è sicuramente anche il giocatore importa il pirlo del sega è un po' la forza il portiere però è stato di migliore incastanza bravo da parla spazio contro ai pillini è un un po' una grande sia finita infatti una carneficina e niente secondo il nostro pronostico vincerà il barcelona con due gol di scarto rispetto alla juventus mi dispiace per tutti i juventini che all'ascolto ecco che guarderanno questo video però te sei che ne ha fatto miracoli perché la juve comunque meritava sarebbe forse meritava anche un pareggio un 2 a 2 forse un gol secondo me ok per oggi è tutto io sono Giuseppe e Andrea dei 4 Gioiva un saluto ciao ciao